aia porto cazzarola ora tenuta porca puttrella o controvento si vava aia porto aia porto cazzarola ora tenuta percorso si senti, maledetto e già ormai petentone che rifalla? è un bigolo eh? ma guarda che lo faceva sempre così anche in zona, fa così eh? quando facevamo le gare era così uguale uguale stoffetente oh vatti buttaglielo lì sotto la ruota meglio in prima ma è quello lì che mi ha calciato la faccia fagli lo scherzo fagli lo scherzo adesso ma guarda che i tempi era tutto così eh? tu fai il regionale intero così cazzo tutto così o ti tirano le bindelle o l'abbassava o metteva dentro il piede è una troia eh il karma petente che è guarda ora rifaccio davvero però mi frega un cazzo vedi che il karma funziona però eh? oh è la quarta volta è la quarta volta che va in moto eh? non pretendete oh è che cazzo vedi oh calma eh? passa da parte vai eh c'è un milano cioè lui è la quarta o la quinta volta che va eh? figa cioè è già buona che prova io ho il mano a lui la gli dico fai te eh ascolta tre marcio questo bastardo è già passato adesso è il nostro non c'entra un cazzo ma si può fare tutto il regionale così ai tempi? no 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 è già passato è il piede e ti tira giù la bindella e ti fai il coso ma mi sono spaventato quando sono sceso che era sotto eh e sei capace andare? oh alene a te ma auto non c'entra un proposition